Il numero dei morti del naufragio disteccato di Cutro sale ancora dopo il ritrovamento all'alba del corpo di un uomo riverso sulla spiaggia. Mentre le ricerche dei dispersi continuano senza sosta, domani sarà aperta la Camera Ardente per rendere omaggio alle vittime. Intanto anche la politica si muove dopo la strage del mare. Giorgia Meloni ha scritto al Consiglio e alla Commissione Unione Europea agire subito. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde dopo le polemiche, chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli. Alle ricerche dei dispersi si affianca il lavoro degli inquirenti a caccia dei responsabili della strage. Al momento sono stati fermati tre presunti scafisti, sono un cittadino turco e due pakistani. Il viaggio della morte, questa la ricostruzione della procura di Crotone, costava ad ogni emigrante circa 8.000 euro. I tre sono in carcere. Il quadro accusatorio nasce dalle testimonianze dei naufraghi, accertamenti anche su una quarta persona che al momento è indagata ma non sottoposta a misure restrittive. Dall'alba di oggi sono impegnati nelle ricerche in mare i sommozzatori dei vigili del fuoco della Guardia di Finanza. In volo anche due elicotteri, il primo dei finanzieri, il secondo dei vigili. Sempre è stata aperta al pubblico la Camera Ardente presso il Palamiglioni di Crotone per dare l'ultimo saluto alle vittime. Al Palamiglioni di Crotone sarà aperta oggi la Camera Ardente per le 64 vittime del naufragio di steccato di Cutro. Ne dà notizia la Prefettura. Ieri intanto si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi per un aggiornamento delle fasi delle ricerche. Le operazioni, sempre coordinate dalla Capitaneria di Porto, proseguiranno per tutta la giornata con mezzi aerei e navali e con l'aggiunta di un drone della protezione civile regionale.